Tu solo compiere la Biblie, cuori finita tua direttù. Vidi il tuo popolo redetto, la terra è estrella per celebrare nella verità e con gioia dell'Eucaristia, il giorno del Signore, il giorno in cui guardiamo la vita di Sant'Anna, San Gioachino, perché siano per noi esempi del nostro vivere in Cielo di Gesù, con gioia presiedo questa celebrazione Eucaristica del giorno del Signore, nel quale viviamo anche la memoria liturgica dei Santi Anna e Gioachino, genitori di Maria, nomi di Gesù. Grazie quindi a Don Riccardo per il Fraterno Intuito, a Don Luigi, a Don Bruno, a Padre Salvatore, ai diaconi che concederanno questa Santa Messa. Amen. Grazie. 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 Grazie.